benvenuti a meteo giuliaci.it domani sabato 13 aprile inizia un lungo periodo di tempo bello e soleggiato su quasi tutta l'italia per l'arrivo sulla penisola dell'anticiclone nord africano quello che appunto porta caldo ma in questo caso non sarà un caldo vehemente estivo ma sarà un caldo piacevole tipico appunto della primavera dicevo bel tempo oggi su tutta l'italia a parte un po di nuvole sulle isole maggiori sulla calabria nuvole innocue per il passaggio di una debole perturbazione in arrivo dal nord africa ma vediamo l'immagine del satellite virtuale vedete il sereno su quasi tutta l'italia e quella masso nuvoloso debole che dal nord africa si allunga verso le isole maggiori bene vediamo in un'unica immagine il tempo che farà domani vedete il sereno quasi ovunque un po di nuvole sulle isole maggiori sulla calabria qualche nuvola al mattino e qualche debole nevicata ancora sulle alpi orientali e sulla venezia giulia perché la perturbazione numero 5 che finalmente ci sta salutando perché se ne va verso i balcani bene uno sguardo alle temperature temperature che sono in rialzo valori di 20 22 gradi al centro nord e addirittura 22 25 al sud e sulle isole maggiori valori che sono 5 6 gradi al di sopra della media prevista per questo periodo dell'anno bene termino qui vi ringrazio per l'ascolto ancora buongiorno